Nella seconda parte restiamo nei pressi di quell'epoca raccontando il Carso, l'altopiano carsico nel 1915 all'inizio quando l'Italia entra in guerra nel primo conflitto mondiale quindi le prime battaglie sull'altopiano e la terribile vita nelle trincere del Carso Diamo il benvenuto a Mitia Juren, buon pomeriggio Mitia, grazie di essere qui con noi Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti Allora Mitia Juren autore assieme a Nicola Persegati e a Paolo Pizzamus del libro Carso 1915 L'ingresso nell'inferno, quindi un sottotitolo diciamo piuttosto forte pubblicato da Gasperi uscito da poco Dunque Mitia il libro analizza e racconta in maniera molto viva e diciamo con delle visioni da tanti punti di vista quello che succede non tanto allo scoppio della grande guerra che era già iniziata nel 1914 ma all'entrata in guerra dell'Italia nel 1915 in questo spicchio di territorio, in questa particella così di fronte terribile che è il Carso Allora il libro è, sono 400 pagine ricco di testimonianze, di citazioni, di mappe, di fotografie perché proprio analizza, va a, come dire, cala il lettore in una sorta di terribile quotidianità Poi ci torniamo, ne parliamo di questo, anche di quello che rimane oggi perché andare a passeggiare, a camminare lì oggi quasi non ci si rende conto di quello che era successo allora Allora che cosa accade in questo 1915 quando scoppia la guerra in questo territorio, in questo Carso insomma un abitato rurale, insomma una società rurale, che cosa succede? Succede questo, che l'Italia ovviamente entra in guerra nel maggio del 15 e non è preparata a un tipo di guerra che affronterà da lì a poco sul Carso del 15 In questo libro di solito si parla del San Michele, del Quattro Cime, di San Martino, Ungaretti con le sue liriche e si è dimenticato praticamente da sempre delle quote, delle prime tre battaglie, quelle quote che sono gli antimorali, chiamiamoli così, del San Michele e il Bosco Cappuccio, la quota 141 e la 170, sono delle piccole quote, quasi impercettibili perché dietro c'è San Michele che si alza un po' di più con i suoi 275 metri di altezza sono quasi impercettibili, ma lì si sono svolte le prime battaglie, il primo scoglio che in qualche modo fa capire agli italiani, alle truppe, ai fanti Ma soprattutto gli italiani, perché loro erano gli attaccanti Sì, sì è vero, perché facciamo così, gli austriaci erano dei maestri, erano dei strateghi molto bravi, molto preparati a sfruttare tutto quello che è il territorio, il terreno E loro si erano già preparati E cosa fanno? Loro abbandonano Gradisca a Monfalcone e dove si arroccano sul primo cilione carso, su un lembo di terra che è ben visibile se si va dall'autostrada a Villesse Certo Giriamo lo sguardo verso il carso e vediamo che la pianura a un certo punto si ferma e comincia questo scalino Un baluardo naturale Sì, di 265 metri, la quota più alta, che partono da Vermeliano-Selt, la quota dei 6 bus, di 118 metri, quindi altezze piccole ma importantissime per arginare l'avanzata italiana Quindi Monfalcone Gradisca, tutti questi nuclei abitativi più importanti vengono abbandonati Ma le austriaci già in mesi precedenti dell'entrata della decrezione di guerra italiana del 23 maggio cominciano a fortificare queste zone Ed è un diario di Hubner, che è un ufficiale austriaco, che ci descrive che già in aprile stanno fortificando quella porzione di carso che per loro è difendibile Perché? Perché permette di affrontare gli italiani dall'alto Tutti gli attacchi italiani sono svolti dal basso verso l'alto E gli austriaci semplicemente, con delle trincee quasi approssimative all'inizio della guerra Vanno sì che gli italiani, le truppe italiane, i Fanti, i Bessalieri, gli Alpini, dovevano attaccare un punto scoperto E loro, con delle mitralatrici sfarzlose, con un tiro incrociato, facevano sì che chi ci passava vicino è stragi Ed è questo che è passato quasi sotto traccia, era quasi impossibile capire all'epoca Come è possibile che gli italiani, con tutta la superiorità di materiali, ma anche di uomini, non potevano avanzare più di tanto? Spesso volentieri, anche i moderni storici, che non conoscono il terreno, sono come gli ufficiali generali dell'epoca Nel senso, davano i comandi da Cormons, da Udine, con una mappa magari anche approssimativa Mentre gli austriaci queste mappe non le avevano, avevano le mappe dettagliate Perché conoscevano territorio E le studiavano con le mappe, sono tanti gli episodi con cui qualche ufficiale va in prima linea con le mappe Le studia, si schizza i posti più importanti da difendere, i punti più difficili da attaccare Trovando quello che è, in qualche modo, il punto debole, una trincea, uno schieramento italiano Per affrontarle in maniera positiva Invece, purtroppo, gli italiani questo non lo facevano E non perché le truppe non erano brave a combattere Anzi, il contrario Perché gli ordini dati da lontano Con delle mappe approssimative, magari, io le dico sempre Comprate in qualche ex, o facciamo il futuro autogrill Il problema delle mappe è sempre stato È un problema, sì Per tutti gli eserci Infatti, sono le mappe che ci aiutano per capire meglio il territorio In questo libro ci sono tantissime Ecco, per questo voi avete messo tante mappe Io sì, perché noi sì, perché? Perché le mappe sono quelle, anche se dettagliate Non so, le trincea delle Frans, che è così conosciuta Dove è morto Corridoni nel novembre del 15 Ci fanno capire come erano questi spostamenti E come era importante sapere quanti metri devi percorrere per raggiungere la trincea Quanto era lunga Quante caverne c'erano della parte austriaca Dove era posizionata l'artiglieria La metriolatrice Cioè, è tutto un mondo che in qualche modo si sviluppa E all'inizio, nel 15 Non c'era questa consapevolezza Cosa si affrontava Quindi si mandava a morire tantissima gente senza nessun senso Certo, quindi noi vogliamo ricordare anche che Quando si parla, quando si fa la storia un po' Insomma, la storia militare è sempre un tassello importante Perché capire che cosa accade Poi sul terreno è un modo che aiuta a capire meglio Poi le strategie e i movimenti Diciamo, i grandi movimenti della storia E quella fu, come emerge dal vostro libro Carso 1915 Quindi l'ingresso nell'inferno Perché era un vero e proprio inferno Un primo assaggio di una guerra moderna Perché c'era questo C'era questo carattere così Di modernità Non si sapeva in realtà Come si andava a combattere ancora Sì, è vero L'Italia entra in guerra ma anche l'Austria-Lungheria E non è che cambiava tantissimo Come succedeva questo Che la guerra Fino a quella volta era pensata come una guerra napoleonica Quando due eserciti si stilisavano a campo aperto Come una partita di Mettiamo così di rugby per far capire Sì, poi le guerre napoleoniche C'era la tromba Invece qua comincia che Intanto le uniformi sgargianti, colorati Gli elmi dorati Vengono subito abbandonati Perché bastava sul caso Non visto come adesso E beh, adesso sì Dopo l'ultimo incendio Si può capire Chi avrà voglia di farsi un giro Vedrà un po' Ecco, si è cambiato il paesaggio Gli incendi ricendi Hanno riportato alla mente Un po' quello che era il caso allora Sì, ho fatto proprio il sabato Un giro tra Castenevizza e Seilov E altre battaglie Siamo nel 17 Ma anche lì cruentissime Quindi ancora più spaventevoli Perché cominciavano ad entrare in ballo Le bombarde moderne Alte metri elettrici Il fatto sta che ci fa capire Com'è il territorio Quindi visibilissimo E bastava un luccichio di una medaglia Appuntata Oppure un ufficiale Sì Un ufficiale con le sue sgargianti Allamari Tutti i colori Veneva preso subito Da un cicchino O da un'artiglieria nemica Quindi E fa un'altra cosa La grande guerra Fa in quel modo Infossare Fa Sotterrare la guerra Quindi triceche Menamenti Doline Caverne Non più in vista Il Carso C'è questo terreno Che inghiotte gli uomini Letteralmente Ed era Le doline Le cosiddette doline Che sono Erano una Una manna Praticamente Era una cosa molto Ben vista Sia degli austrici Sia degli italiani Nel senso che erano Dei ripari naturali Sia almeno alla vista Del nemico Quindi le caverne E adesso con questo fuoco Con questo incendio Micidiale Sono riemerse delle tracce Che io Anche se ho percorso Tantissimo Il caso Per esempio Beh io ho visto Sopra Seilo Ma anche il Brestovitz No? Per dire trincee Caminamenti Che sì Durante la primavera L'inverno Riemergono un pochettino Ma col fuoco Sono riemerse caverne Trinceamenti Collegamenti Tra una e l'altra Dolina Che prima non si vedevano Perché Perché La robinia Il sommacco Che è bello da vedere Però molto infestante Copriva tutto Faceva come stendere Un tappeto Su queste trincee E il caso Ha una peculiarità Che è quasi unica Nel nostro territorio Perché non è Il fronte delle fiandre Che è molto Terreno Mettiamo un franoso Marmolo No È roccia È roccia È chiaro E se tu non la riempi Di altra pietra Rimano uguali Quindi dopo cento E passa anni Sono rimaste tutte le trincee Quasi identiche Come nel 16 Ecco questa era Una delle domande Appunto Che cosa è rimasto Quindi di questo Spicchio di territorio Che viene devastato In maniera Enorme Da questa guerra Viene Viene cambiato proprio Il paesaggio Anche se non altro Per la realizzazione Delle fortificazioni Delle caverne Delle trincee Eccetera Eccetera E Sempre rimanendo Agli incendi Di quest'estate C'è stato l'episodio Riportato dai media No Delle esplosioni Ancora Di proietti Rimasti Dal Diciamo Da quei tempi Che cosa è rimasto Proprio nella terra Questo ci fa capire anche Le tante esplosioni Ma tantissime Io ci abito vicino A Rupa Di notte Era un rimbombo continuo Se aveva veramente Di essere E non Le cartucce semplici Che esplodevano Che ce ne sono tantissime Ma quello si fa capire anche Quanto si è combattuto Quanto milioni di proiettili Per ogni offensiva Sono stati scaricati Sul carso Tanti sono esplosi Tanti no E tranne Mettiamo così Quello che è Il materiale Mettiamo bellico Di armamenti Sono rimaste Tutte le trincee Tutti i camminamenti Tutte le doline E tutto Sono abbastanza coperti Ancora Non sono C'è E sono larghe fette di territorio Che sono ancora da esplorare Sicuramente Sicuramente Io ho detto sempre Di avere tempo Fare quanti chilometri trincee Un lavoro di archeologia Moderna Di archeologia contemporanea E questo il caso Ci permette di averlo Così A cielo aperto Non serve fare Grandi sbancamenti No 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 Certo Basta ripulirle Il fuoco ha fatto Se si può usare Questo termine Una cosa positiva Ha fatto riemergere Le tracce scomparse Perché erano In qualche modo Inglobate Nella natura Nella vegetazione Ed è interessante Le mappe Che mi ho messo In libro Le trincee Che sono segnate Quasi tutte Sono ancora Rintracciabili Ovviamente Bisogna avere un po' Di fortuna Dove non c'era Il fuoco Armarsi Di qualche Pinza Di potatura Per entrarci dentro Però Sempre nel rispetto Di quelle che sono Le regole Tutto Sicuramente Solo la rovigna La taliamo Non altro Ovviamente Anche questo Ho visto che Quando ho cominciato A ricercare Le tracce Sono difficili Da ritrovare Perché sono state Dopo la conquista italiana Le trincee I camminamenti Riutilizzate Degli italiani Ma esiste ancora Sopra Marcottini Poliane Sopra il Seibui Sopra Mofalconi Facciamo così Le Seibusi Il Cossic Quelle colline Praticamente Le prime Che hanno Fondato gli italiani Esistono ancora Le tracce austriache Piccoli scavi Piccole trincee Piccoli ammassamenti E con le carte Con i studi Dei vari diari E delle relazioni ufficiali Si riesce a Ripercorrere Un po' Il sistema difensivo Austro-ungarico Ecco In questo libro Stiamo parlando Appunto del Carso 1915 L'ingresso all'inferno Ce lo sta Raccontando Michi Ejuren Autore Assieme a Nicola Persegati A Paolo Pizzamus Di questo Poderoso Studio Poderoso Lavoro Per fare Il quale Avete attinto A quali fonti Qui Questo 1915 Viene ricostruito Quasi giorno per giorno Di quello che accade Da una parte E dall'altra Diciamo del fatto Quindi a quali fonti Vi siete abbeverati La fonte Principale Ovviamente Rimane A Roma L'archivio Dell'ufficio Storico Stato Maggiore Dell'esercito Che per me Anche se lo frequento Da vent'anni Ormai Ogni volta che ci vado Trovo qualcosa di Una miniera Sì sì Una miniera Gli archivi Non è così facile Ricercare Perché non vai là Che devi sapere I reggimenti I diari Comunque Una ricerca Che appassiona Come quella Sul terreno E dopo In questo libro In questo volume Abbiamo tentato Di mettere dentro Tantissimo Di quello che Riguarda L'impero austro-ungarico Quindi siamo collegati Con vari Altri ricercatori Austriaci E sloveni Quindi l'archivio Di Vienna Un po' Quello di Budapest Un po' Di traduzioni Dall'ungarese Che non è sempre facile Però abbiamo tentato Anche di Mettere dentro Di fare questo libro Un po' più godibile Perché la storia So che è difficile Perché anche Se devo dire una cosa Forse che non piacerà A tanti I combattimenti Delle grandi guerre Sono tutti uguali Uno attacca Uno difende E i morti Punto Questo è più o meno E qua si è tentato Di mettere dentro Tantissima testimonianza Personale Diari Sia dell'una parte Sia dell'altra parte Per rendere tutto Un po' più umano Di quello che era Il combattimento E quindi Si è cercato Di mettere dentro Le relazioni ufficiali Diari regimentali Di quello che è successo In quel giorno E trovare magari Dei diari Sia austriaci Sia italiani Che parlino In maniera personale Di quell'evento Che sulle mappe Sulle relazioni ufficiali Molto più scarno E molto più freddo Ecco di quello che può essere Ecco questo ci dà Una panoramica Devo dire Veramente Molto viva Di quello che accadde Come titolo e libro Nel Carson Nel 1915 L'ingresso dell'inferno Di Mattia Juren Nicola Persegati E Paolo Pizzamos Grazie a Mattia Juren Grazie di essere Stato con noi Grazie a voi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie.